Lo sport ha sempre grandi storie da raccontare. Con queste parole Papa Francesco ha colto in Vaticano gli atleti Special Olympics, partecipanti al torneo Unified Football. Ai presenti, simbolo di uno sport che apre gli occhi e il cuore al valore e alla dignità di individui e di persone che altrimenti sarebbero oggetto di pregiudizie e di esclusione, il Pontefice ha chiesto di coltivare, insieme al divertimento, l'amicizia e la solidarietà. In questo modo lo sport diviene linguaggio universale che supera le differenze culturali, sociali, religiose e fisiche e riesce a unire le persone rendendole partecipi allo stesso gioco e protagoniste insieme di vittorie e di sconfitte. Questa bella realtà, che portate avanti con impegno e convinzione, alimenta la speranza di un futuro positivo e fecondo dello sport, perché fa sì che esso diventi una vera occasione di inclusione e di coinvolgimento. Non stancatevi di mostrare al mondo dello sport il vostro impegno condiviso per costruire società più fraterne in cui le persone possano crescere e svilupparsi e realizzare a pieno le proprie capacità. Grazie a tutti.